Siamo qui con Maria Baiano che ci racconterà qualcosa della sua vita. Maria, raccontaci un pochino qualcosa, come si svolgeva la tua vita prima. Fin da bambina avevo una grande tristezza nel mio cuore, perché a casa mia non regnava la serenità. I miei genitori avevano problemi e questo si diversava su tutta la famiglia. La mia tristezza ha portato poi a chiudermi e quindi avevo anche un grande senso di solitudine. Non mi sentivo capita, non mi sentivo amata. E questo fatto di non sentirmi amata, col tempo poi mi sentivo colpevole, come se non mi amassero per colpa mia. Perché ho iniziato ad avere anche tanti complessi di inferiorità. E questo ha portato un grande dolore nella mia adolescenza. Poi pian piano che sono cresciuta ho avuto un cambiamento e ho iniziato a dare tanta importanza all'apparire. Ho iniziato ad amare tutto ciò che è appariscente e ho trasformato proprio il mio modo di essere. Da ragazza semplice a una donna piuttosto appariscente. E questo purtroppo è stato un inganno perché mi ha portato in anoressia. E ho attraversato un paio d'anni che non toccavo più cibo. Tutta la famiglia, in modo particolare mia madre, erano preoccupati. E a me questo piaceva perché comunque avevo attirato l'attenzione su di me. Poi sono uscita da questa fase, ho conosciuto mio marito, mi sono sposata, ho avuto due bambini meravigliosi. E ho avuto degli anni tranquilli. Poi purtroppo c'è stata la morte di mio padre e di nuovo il dolore ha invaso il mio essere. Beh diciamo comunque è stato un avvenimento importante questo perché so che tu eri molto legato al tuo padre. Sì, amavo profondamente mio padre e quindi poi dopo ho affrontato altre difficoltà e ho avuto un grandissimo dolore e tutto questo ha portato anche una crisi matrimoniale. e quindi da... ormai in me regnava solo dolore e tristezza e sono andata in depressione. E nella fase di depressione purtroppo ho tentato anche il suicidio. Quindi comunque si è trattato di un'adolescenza tragica possiamo così dire. E che cosa è successo poi dopo una volta che hai superato questa fase della tua vita comunque crescendo che comunque ha portato male su male? Raccontaci un po'. In questo periodo di sofferenza mia cognata mi regalò la Bibbia. E da che mi regalò la Bibbia tutte le mattine iniziai a leggere la parola di Dio. E solo la mattina quando pregavo il Signore e leggevo la parola trovavo sollievo nell'anima mia. senza rendermi conto perché io non conoscevo il Signore. Certo, avevo sentito parlare di Dio, un Dio lontano, andavo in chiesa, ascoltavo la parola però non riuscivo a vedere Dio come un Dio d'amore. E il fatto di leggere la parola, io avevo tanta paura. E il Signore nella sua parola diceva non temere, io sono con te. E io credevo che il Signore era con me, iniziai a credere. E quella parola diventò una forza nel mio cuore. E più la leggevo, più desideravo leggerla. E poi da lì a poco ho conosciuto il Signore. Attraverso, sono stata invitata in chiesa, sono andata in chiesa. E come andai in chiesa, realizzai la presenza del Signore. Realizzai la presenza del Signore. E fu qualcosa di meraviglioso. Perché io pregavo il Signore e volevo capire se realmente esisteva oppure no. Perché io ero incredula, dato che non sentivo la sua presenza. Io iniziai a leggere la sua parola, iniziai a comprendere tante cose. Iniziai a vedere la differenza tra il bene e il male. Perché io mi sentivo buona, giusta, vittima della vita per tutte le cose che avevo subito. E invece no, non è così. Perché davanti al Signore, davanti alla santità di Dio, davanti alla perfezione di Cristo Gesù, ho realizzato che tutti siamo peccatori. E veramente ho iniziato a... Il Signore pian piano ha iniziato a farmi comprendere tutti i sentimenti negativi che gli esseri umani hanno. E mentre invece... Diciamo che Dio amore è... Dio... Certo, comunque hai visto questo grande cambiamento rispetto alla tua vita passata. Quindi comunque poi è stata una cosa di mattimo, oppure poi è proseguito nella tua vita tutte queste cose belle, questo Gesù che ti ha sconvolto tutta la vita. No, ringraziando il Signore non è stata un'esperienza di qualche giorno. Oggi sono cinque anni che conosco il Signore. Il Signore lo amo veramente con tutto il cuore, perché è un Dio d'amore. È un Signore che è pronto a prendersi cura di te. È un Signore che è vicino a te. Il Signore ha riempito proprio tutto il vuoto e tutta la mancanza che io avevo. Il Signore è veramente nella mia vita è al primo posto, perché il Signore è degno di stare al primo posto. Non c'è proprio paragone con la tua vita passata. No, oggi sono sempre gioiosa perché ho una grande riconoscenza nel Signore, perché il Signore mi ha scelto. Il Signore mi ha perdonato, il Signore ha perdonato tutti i miei peccati, mi ha lavato col sangue prezioso di Gesù, perché Gesù è morto sulla croce per noi peccatori. Lui giusto, puro, innocente. Lui non ha fatto niente. Lui è morto per me e per ognuno di noi. E realizzare questo, ma veramente, con grande umiltà e con un grande desiderio nel cuore, quello di ubbidire alla sua parola, perché conoscendola a parola di Dio, fai tante esperienze, perché non è che quello che tu realizzi mentalmente, è che tu lo vivi. Io ho vissuto il perdono. Quando Dio dice perdona, uno dice il perdono può sembrare una cosa semplice. Non è semplice, però quando è un perdono che te lo mette Dio nel cuore, è un qualcosa di meraviglioso. Allora, è vivere quello che Dio ti dice, non è leggerlo e comprenderlo solo a livello di intelligenza. E ti senti di dare un consiglio ai nostri amici che sono in ascolto? Il consiglio è... Io sono rinata. Io ero veramente morta nei falli e nei peccati, come dice la parola di Dio. E quella grande sofferenza che mi ha portato come in un burrone buio, ho visto la luce. Solo Gesù ha potuto aiutarmi e trarmi fuori da tutta quella situazione. Solo il Signore ha potuto illuminare la mia vita. E io a ogni persona consiglio realmente di leggere la parola di Dio, perché attraverso la parola puoi comprendere ogni cosa. Certo, ognuno di noi ha la sua esperienza, ognuno di noi può parlare, può raccontare, ma ognuno deve fare l'esperienza personalmente e realizzare quello che Dio è, perché il nostro desiderio, chi realizza Gesù nella propria vita, è quello di vederlo un indomani, come Egli è. Nel mio cuore c'è una speranza viva e il desiderio più grande è quello di vedere Dio un indomani. E quindi ognuno di voi può realizzare tutto ciò. E il Signore poi dice, chi mi cerca mi trova. E cercatelo con tutto il cuore, perché il Signore si lascia trovare. Ringraziamo Maria per la sua testimonianza, tanto toccante, e diamo appuntamento a tutti voi alla prossima volta.